Amici di TV Villar 2000, buonasera a tutti. Abbiamo uno scoop questa sera, abbiamo con noi il grande Scaramuzzi. Il satellite costa tanto. Sarà un'intervista rapida, anche perché lui è atteso dagli sponsor, per cui siamo veramente... siamo grati di averci concesso questi pochi minuti di intervista, perché sappiamo quanti sono i suoi impegni. Allora, prima cosa, Scaramuzzi ha preso una bella sveglia questa sera da un giocatore mancino che lui soffre molto. Ci dicono che abbia perso 6-3-6-1 con Alessio Vincenzoni. 6-3-6-1, sì, posso aggiungere in maniera molto amara il terzo set, proprio quello dei bambini, cosiddette che hanno vinto addirittura 6-0. Ah, beh, certo, come Anelli che batte Palermi 6-0 al quarto. Sì, sì, stessa roba. Con il pippo sulla luna. Con tancazza. Sì, purtroppo... Lo soffre. Lo soffri. Sono reduce da due o tre partite perse in maniera, direi, netta, purtroppo. Prima con chi hai perso? No, nel senso, le due o tre partite precedenti con Vincenzoni, sempre finito un set pari lì per lì. Le ultime due, ormai ti ha preso le misure. Poi facciamo questo terzo set così, che mi dà quella piccola di carica psicologica. Ma non ne parliamo. Pensare che la prossima volta ce la posso fare. Ma non parliamo del terzo set, perché sappiamo bene che, insomma... Allora, la lettura tecnica è la seguente. Secondo me tu sei un talento del paddel sprecato al tennis, però se tu ti vuoi ostinare a migliorare quelle tue scarse qualità tecniche nel tennis... Qualcosa che inizia sempre con la P, ma non è il paddel, lo sai, sul campo... Sì, 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 pittino, pittino. Eh, sì. Eh, lui è onestamente più strutturato di me, cioè più solido, va detto. Più tannico. Devo puntare su quello, devo puntare su quella pizzico di difetto, diciamo, nel suo gioco. Io devo essere perfetto. Quali sono i difetti del gioco di Vincenzioni? Cioè adesso a mente fredda, a palle... Adesso non mi posso scoprire perché io ho una tattica, ce l'ho, non sempre funziona, ma... Insomma... Vabbè, tanto Vincenzioni non ci ascolta perché lui viaggia su altri livelli. E poi questo, infatti io l'ho detto, Alessio sei fastidioso, anzi, se mai vedessi questi video sei fastidioso, perché? Perché lui questi video ci snobba, non partecipa alla chat, neanche un ciao... Wow! Una cosa così, eh? Ma cioè, per noi ha già un onore averlo nella chat. No, assolutamente. Poi viene, Mazzole se ne va, è irritante. Ma che razza di giocatori di circolo è? Non mi lascia nemmeno fare un 30 secondi di pittino per darmi la sull'ispazione. Ti fa vincere 6-1 al terzo setto. Basta, sono sdegnato, me ne va. Ci vedremo al Rodeo. A Rodeo, dove sarà una finale Scaramuzzi-Vincenzoni. Ma proprio da Boris, tu cosa hai fatto stasera in campo? Io stasera ho fatto un sette pari e devo dire che stasera ho superato me stesso. Può anche notare il video diventa un self-interview. No, no, no. Hai superato te stesso, perché? Perché io sono riuscito, udite udite, a perdere un tie-break che vincevo 6-1. Per cui, ragazzi, cioè, quando arriverete a questi livelli... Certo, vabbè, tie-break, ma d'altronde all'inizio hai iniziato molto male, no? Sì, infatti il set... Grazie, Scaramuzzi, di ricordarmi queste cose. Comunque sì, stavo vincendo 5-1, facile. Non facevo doppi falli. Ci ho detto rosso. Non facevo doppi falli. A un certo punto ho detto, cazzo, stasera è facile, vai. E' infatti. Il tennis è così, ragazzi, ma noi resisteremo. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte, Scaramuzzi. Abbiamo qui il grande, grande, grandissimo Alfredino Cannata. Stasera è un po' meno grande, ma insomma... Un po' meno grande, che ha una ginocchiera che è del bambino, di un bambino di otto anni, perché è stretta, stretta, scusa, un primo piano su il rotolino di ciccia di... Che devo dire... Di addominali dormieri. Diciamo che questa estate non ha perso peso, guarda. Possiamo dire che forse tenisticamente le sue qualità non sono diminuite, però, insomma, Alfredino è sempre in grande forma, per cui... Stasera è un po' meno. Posso dirti una cosa, Alfredino, guarda, te lo dico personalmente, non perdere peso. Io ho perso 15 chili, sembra che li ho presi, per come sto giocando male. Meglio rimanere così. Meglio rimanere così, perché probabilmente nella ciccia c'è anche nascosto del talento. Quando perdi la ciccia, perdi il talento. Per cui, stasera, io per esempio, 6 a 1 al tag break, sono riuscito a perderlo 9, 8 a 6. Insomma, fatemi i complimenti, perché ho perso 7 punti consecutivi. 8 punti consecutivi. Non male, non male. Io ho preso il scoppolone. Eh, Alfredino ha preso le sveglie da l'ottimo Fiore. Fiore che è stato uno dei castigamati di Spons, quindi Fiore è uno che salirà. E quindi Spons non può lamentarsi, perché da giocatore B è stato abbinato a un giocatore di livello. Assolutamente. Comunque, dai, prima di chiudere questa intervista, due parole per il nostro Spons. Anche tu sei per Spons Life Matters. Spons Life Matters, assolutamente. Io anzi metterei questa scritta sulle maglie del De Bialar, come claim del circolo. Sono d'accordo. De Bialar, sulla schiena. Tutti ginocchiati col pugno A in alto, Spons Life Matters. Va bene, va bene. L'ultima parola in chiusura alla mamma del Presidente, che dà la buonanotte a tutti. Certamente. Amici di TV Bialar 2000, dal Bialar anche per questa sera è tutto. E buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.